E adesso parliamo della presentazione del libro di Nicola Le Grottaglie, calciatore della Juventus e della Nazionale. Nel palazzetto dello sport di Massafra è stato presentato il libro di Nicola Le Grottaglie. Ho fatto una promessa perché la fede ha cambiato la mia vita. Questa sera sei stato il capo cannoniere. Hai visto quanti gol hai fatto? Tantissimi. Penso che sono stati i gol più belli della mia carriera. E quindi sono contento e felice di essere stato usato come strumento per poter dare conforto al cuore di persone che comunque in questo momento si sentivano forse poco di buoni o erano in situazioni difficili. Quindi la parola di Dio arriva, si usa anche di persone per poter colpire i cuori e dirgli che c'è un avvenire. Il tuo libro, hai fatto una promessa, perché la fede ha cambiato la tua vita? Sì, racconto come è successo il mio cammino nel conoscere Gesù e come Gesù poi opera nella mia vita. Da tre anni a questa parte racconto tutto quello che è successo nella mia vita. Nel palazzetto dello sport erano presenti il papà e la mamma di Angela Celentano, rapita 13 anni fa sul Monte Faito. 13 anni hanno segnato la nostra vita, però diciamo che ci hanno molto avvicinato a Dio, ci hanno fatto attaccare di più a Lui e ci hanno fatto crescere tantissimo. In questi 13 anni però la fede in Dio non ci ha mai fatto perdere la speranza e continuiamo a sperare e convinti che prima o poi Angela tornerà a casa. Che cosa ricorda di quei momenti particolari? Sono stati momenti veramente terribili e non ci sono neanche parole per descriverli. Sembrava veramente tutto finito in quel momento e sembrava la nostra vita veramente raggiunta al termine.